Grazie Presidente, Governo colleghi, la legge di bilancio è la legge più importante che stabilisce come, quanto e dove si spenderanno le risorse pubbliche e si gestiranno le entrate fiscali. E considerato che questo Governo si caratterizza per un ricorso eccessivo ai decreti leggi, un ricorso compulsivo ed illegittimo ai DPCM, la manovra economica doveva rappresentare, come sempre, ma di più quella del 2021, la carta di identità politica della maggioranza con la sua idea di nazione e una visione organica di cui invece manca. Approvata in fretta e furia la Camera, con tempi di discussione compressi in Commissione, arriva al Senato, come è noto, un testo blindato sul quale si impedisce la discussione parlamentare. e si chiede l'approvazione in tempi record per evitare l'esercizio provvisorio. La spunterete con l'ennesimo voto di fiducia, ma l'Italia vi guarda e vi giudica insieme a noi. Una legge di bilancio che vale 40 miliardi, tecnicamente e politicamente sbagliata, che non è una sintesi, ma una sommatoria frammentaria di bonus improduttivi e microinterventi tra i più disparati, frutto di compromessi tra le forze di maggioranza. E con un bonus e l'altro volete gettare sabbia negli occhi per nascondere i buchi neri e esclusi dalla manovra i convitati di pietra, i gruppi più vulnerabili e fragili colpiti dalla pandemia, i meno garantiti, ma anche i malati oncologici ed anche i bambini. E su questo voglio dire una cosa. In tutti questi mesi funesti non ho mai sentito parole per i bambini privati della libertà di giocare e socializzare, di andare a scuola nella normalità, non una parola che si chiama supporto psicologico non solo per i bambini ma anche per i tanti adulti, le cui ricadute della pandemia sulla qualità della vita sono importanti. Ma torniamo al punto, ovvero agli esclusi. Penso ai ristoratori, penso agli operatori turistici, a tutto l'indotto, anche alle famiglie dei dipendenti. Penso al settore del wedding e al settore degli sport. Penso, come ha fatto ConfCommercio, alle imprese. ConfCommercio ci ha detto che sono circa 390.000 le imprese chiuse nel 2020 per l'emergenza sanitaria e il contestuale crollo dei consumi. Tra i settori più colpiti, lo voglio dire, quelli del tempo libero, le agenzie viaggi, abbigliamento e calzature, ambulanti, ristorazione, trasporti. E sempre, non io, ma ConfCommercio denuncia anche la perdita di imprese relative ai lavoratori autonomi e stima la chiusura per circa 200.000 professionisti. Eppure, e qui in mille rivoli, perché nessuna categoria è stata né ristorata né tutelata e la povertà è aumentata. Oltre i 5 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, abbiamo avuto un'incidenza di cosiddette nuove povertà che solo nel periodo tra maggio e settembre 2019-2020 ha avuto una cifra, un balzo che passa dal 31% al 45%. E quindi, e quindi, è un mistero della matematica prima che della politica. Cosa ci avete fatto con tutti questi soldi per i quali abbiamo indebitato figli, nipoti e anche pronipoti? Evidentemente tutte spese prive di criterio e gerarchie di priorità. E al banco di prova, che rappresenta per tutti, per i governi, ogni manovra finanziaria, ci siete arrivati con il fiato corto, anzi con il fiato sul collo delle divisioni interne alla maggioranza, minacce, litigi, ricatti, e la legge di bilancio è lo specchio di tutto questo. E poi c'è la pioggerella di buoni spesa, ne cito solo quattro tra i tanti, buoni spesa per rubinetti, mobili, smartphone e la sostituzione della TV. Mi fa pensare tutto questo alla locuzione latina Panem et Circenses, nel senso, lo voglio dire, di una strategia politica demagogica, un distrattore rispetto alla crisi economica profonda. Alla fine, paradossalmente, lasciate che lo dica, le uniche idee buone sono quelle venute dalle opposizioni e da Fratelli d'Italia, che ha lavorato per migliorare questa legge di bilancio. Penso, tra i tanti interventi, l'aumento di 50 milioni del fondo dell'autismo, l'intervento per le scuole paritarie, il nostro ordine dei giorni su fondi e poteri per Roma Capitale e l'esonero minimo contributivo IMSS per commercianti e tergiani. Solo in parte quello che è stato il contributo di Fratelli d'Italia alla manovra. Nella manovra c'è qualcosa di utile, sicuramente. La cassa integrazione è prorogata, la cassa integrazione per i professionisti, ma con una protetta talmente ristretta che non risolverà il problema e avreste dovuto accettare la nostra proposta sugli ammortizzatori sociali unici. Ma vengo poi a quello che vi vendete come il re dei re della manovra. L'assegno unico per i figli. Premesso che alla Camera il provvedimento è passato col voto unanime, quindi anche il nostro, io prima di suonare le trombe starei attenta perché avete stanziato 3 miliardi quando tutti i sanno che ne servono almeno 6 per evitare che togliendo il sistema vigente e introducendo quello dell'assegno unico le famiglie vengano penalizzate. Lo vogliamo dire oppure vogliamo reclamare e decantare questo aspetto? Vogliamo dire che arriverà a luglio e non a gennaio? Vogliamo dire che non sappiamo di quant'è, massimo 250 euro? Vogliamo dire che dovrà terminare l'iter del disegno di legge delega e conseguenti decreti attuattivi? Lo vogliamo dire che prima ci deve essere la riforma fiscale? Non vi vendete quello che ancora non avete dato alle famiglie? Insomma speriamo bene. Intanto di certo c'è che avete messo solo 4 miliardi per la sanità, che continuate a buttare milioni per l'expo di Dubai che tanto piace a Di Maio e che avete rifinanziato il fallimentare reddito di cittadinanza. E poi ancora vi vantate della lotteria degli scontrini, quel gioco di Stato che dovrebbe combattere l'evasione fiscale, intanto dichiara guerra al contante e traccia le nostre spese. E ancora avete lanciato il cashback come fosse un regalo di Stato quando sono soldi nostri, d'altronde voi siete quelli che col decreto natale avete deciso che Gesù doveva anticipare di dolore la sua nascita e avete sostituito l'evento natale con la spettacolarizzazione dell'avvento del vaccino e del boot day. E questo lo voglio dire perché avete dato un clamore mediatico al trasporto dei vaccini. Fratelli d'Italia ringrazia i militari impegnati nel trasporto, ma vedere ministri e supercommissari così e enfatizzare la cosa è stato stucchevole. Tutto quello che fate, vado a concludere Presidente, è lontano dalla realtà, anzi è la manovra che come ha detto Giorgia Meloni è lontana, anni luce, dalla realtà, dai bisogni dell'Italia e dei cittadini. Per i quali, concludo Presidente, servirebbe un'altra intera manovra, forse direi una manovra diversa, ma per questo servirebbe un altro governo, un governo diverso, patriottico, di centrodestra, innamorato dell'Italia e degli italiani. Tutto quello che voi non siete.